ciao a tutti amici bentornati sul mio canale allora oggi raccogliamo un po di verza eccola qua scusate se faccio un po di casino col telefono e queste foglie qui che avanzeranno ecco qua allora prendiamo la verza e ci prendiamo la palla allora ragazzi non ce la faccio a filmare e a lavorare per cui facciamo così ma ce l'ho fatta le ho prese tutte e due e adesso prendiamo tutte queste foglie mettiamo un po e le portiamo alle nostre galline allora coltello mettiamolo lì che poi lo perdiamo ecco le altre foglie le possiamo lasciare ok queste qui le portiamo tutte su alle galline e ora vi faccio vedere come le mangiano sia galline che anatre e tutto il resto adesso le ho aperte per cui magari sono a pizzicare già nel campo e qui magari li lasciano un po comunque se non è oggi sono stamattina e oggi pomeriggio e domani le finiranno andiamo su nel pollaio allora intanto buttiamone due qua le nostre anatre occhia e queste qua invece le diamo alle galline ce ne avete dai poi guarda ce ne quante ne volete qua devo finire ma adesso abbiamo le olive anzi vi farò anche un video sulla raccolta delle olive qui abbiamo la legna per seccare le castagne ecco qua dai buttiamo qua che dispettoso ragazzi le faraone qui 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 vediamo cosa fanno le faraone il gallo fenix sta mettendo il nuovo fiumaggio anche lui guardate tutte le olive che stanno cadendo adesso sono da raccogliere da un'altra parte un'altra parte va bene ragazzi io continuo a raccogliere tanto qua ci abbiamo le galline che guardate smaccio guardate che bello che è ok niente dai ragazzi vi lascio e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento sul pollaio ciao a tutti amici la marans si deve un po rifare ciao a tutti